Trasformare una propria idea in un abito da sposa, dalla carta modello al prodotto finito, mettendo a frutto ciò che si è appreso sui banchi di scuola, guidate da sarte e operai e con tanti anni di esperienza e in più ricevere in regalo un book realizzato in azienda dal fotografo Valentino Candiani. È la favola ad occhi aperti vissuta da due studentesse del PFP Valtrina di Sondrio, iscritte al corso di sarte modellista. È stata un'esperienza indimenticabile e una nuova prova per noi stesse che abbiamo superato e siamo molto orgogliose di noi stesse. Sono degli abiti da sposa diversi, ma in coni in comune la gonna e siamo riusciti nonostante questo a far esprimere la nostra personalità attraverso i vestiti. Un sogno che si è concretizzato grazie alla collaborazione fra PFP Valtrina e Riri, gruppo leader nella produzione di Cerniere Lampo con proprio stabilimento a Tirano. Questo è un caso concreto di alternanza scuola-lavoro? Sì, assolutamente, veramente molto concreto, partito da una telefonata con una condivisione di entusiasmo veramente reciproco ai massimi livelli, devo essere onesta, che è diventato poi un progetto concreto e realizzato intorno al periodo di febbraio-marzo, proseguito per circa cinque settimane. L'alternanza scuola-lavoro è stata un'occasione ideale per rafforzare il rapporto col territorio, quindi l'esperienza con queste ragazze è stata un'occasione veramente ideale per coniugare il nostro prodotto con l'innovazione delle ragazze, le idee fresche che hanno portato per fare questo abito. Il corso di Sartoria, anche nel prossimo anno scolastico, sarà uno dei punti di forza del PFP Valtellina.